Dieci piazze con musica per tutte le età. Sarà questa la serata che chiuderà la stagione estiva rosetana con il primo Gemming Festival. Iniziativa promossa dai commercianti dell'Associazione Assorose prenderà il via alle ore 22 di venerdì 26 agosto e proseguirà fino a tardanotte nelle piazze cittadine. Soprattutto voler dare un attimino uno slancio a una cittadina che merita, cavalcando questo discorso della musica. Noi dell'Associazione Commerciante abbiamo fatto un abbinamento dando un servizio serale delle aperture con la musica per rendere un attimino una serata un po' più piacevole. Quale sarà il genere di musica? Partiamo dalla cover band ufficiale di Vasco Rossi che è la compricola di Vasco, andiamo dal reggae, andiamo dall'afrodesir che è una musica etnica, un'altra cover band importante di Liga Bue. I Pink Floyd per i nostalgici della nostra età, molto molto bravi. Abbiamo un'altra band, Take Five, che è musica pop rivisitata in chiave jazz, musica dance degli anni 70 e 80. È anche una cantante brasiliana che viene qui d'estate in Italia con gran piacere e che avremo messo qui anche una piccola piazza, per cui ci sono per tutti. Abbiamo fatto questa politica in nuove piazze per abbracciare dal nord al sud di Roseto, per far sì che anche tutti gli attori, che sono anche i commercianti nel caso nostro, possano partecipare vivamente a questa manifestazione. Non resta che fare l'invito? Sì, invito a tutti, vi raccomando, una grande serata di musica ed è questa la prima edizione. Grazie a tutti.